Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR Allora, sono tornata ieri dalle vacanze e oggi ho deciso di girare un video abbastanza rilassante anche per me ovvero un video show and tell di dei prodotti che mi sono stati super gentilissimamente un nuovo avverbio omaggiati da Banggood che è un sito che rivende tantissimi prodotti dal cosplay, bellezza, tecnologia ecc e che appunto mi ha dato l'opportunità semplicemente di ricevere dei prodotti in omaggio troverete il link di tutte le cose nella descrizione con un codice sconto che non è affiliato quindi è semplicemente uno sconto per voi se volete acquistare qualcosa non ci guadagno niente però insomma se volete acquistare è utile io direi di iniziare allora, anzitutto io voglio far vedere i due prodotti insieme perché sono della stessa categoria direi sono questi due prodotti ci sono un sacco di cose interessanti devo dire allora, questo video cioè, a me non mi piacciono allora, sono dei famosi prodotti con il fiorellino all'interno uno è questo della Kylie Jumei Kylie Jumei è un sacco di materiale è un sacco di materiale sono dei carri insieme è una del finestrano che si non mi piace non mi piace non mi piace che è questo? è molto carina la confezione è un po' tridimensionale non credo si percepisca dal video e all'interno c'è questo prodotto qui che sarebbe un lucidalabbra che con col pH della pelle cambia colore ci sono diverse colorazioni a me hanno inviato la numero 02 l'unica cosa che non ho capito che all'interno della confezione oltre al gloss che è questo è molto carino è bellissimo con questo fiorellino qui alla fine tutte queste particelle dorate mi hanno dato anche quest'altro che è un altro applicatore che credo servi quando il prodotto sta finendo perché ha una stina più lunga rispetto a quello qui dentro quindi per prendere il prodotto alla fine è la fine è allora vediamo vi faccio vedere questo allora il prodotto si presenta trasparente però una volta applicato cambia colore l'unica cosa che proprio non mi piace di questo prodotto è l'odore perché è dolcissimo e sa un po' di quei prodotti da bambini che li fanno super profumati ma chimici con odori poco naturali però dopo ve lo faccio vedere indossato è più o meno della stessa categoria anche se è di un'altra marca ho preso il rossetto che forse è un po' più noto della Minfei Jelly Crystal Lipstick questo è anche waterproof al compito dell'altro e questo cambia no forse non cambia con il pH ma con la temperatura delle labbra la confezione è bellissima io ho il numero 03 ricordate è bellissimo a me piace un sacco almeno super dolce carino ok questo è il prodotto con il ciore in questo caso è rosso però va sempre alle particelle dorate questo ha un odore buonissimo sa di pulito molto fresco mi piace molto di più adesso mi dite che sembra che ho il naso oscurissimo ma è un effetto delle luci cioè nel senso che qua mi fa tanta ombra se io spengo le luci vedete che non è così però con le luci si vede che boh ho il naso che ha una conformazione tale da farmi un sacco di ombra qua vedete che si gira il naso non è così però vabbè era solo per chiarire dato che me lo scrivete in tantissimi allora l'unica cosa è che anche quando ho fatto la live in cui ho spacchettati in volte mi avete detto che tingono un po' le labbra ed effettivamente è vero soprattutto questo quindi io cercherò di farvi rivedere tutte e due indossati e provo prima ad applicare questo al massimo mettere un po' di fondotinta allora mettiamo un po' così vedete meglio allora vedete che trasparente non è appiccico per niente sembra quasi un olietto ok e questo è il colore che ha su di me si chi pian piano sta cambiando è molto rosato questo su di me cioè le tinte sono un po' le stesse su rosa un po' qualcuno che viene un po' più sul rosso un po' più sul viola questo su di me è un rosa freddo che a me piace tantissimo devo dirmi la verità guardate quanto è intensa e dirà così è troppo forte questa cosa scusate quindi questo mi piace ovviamente gli ingredienti non è che siano il top però l'unica cosa che a me dà fastidio è appunto l'odore però ovviamente sono gusti personali ecco non è che sa di benzina sa di qualcosa di molto dolce che a me non piace però l'effetto è carinissimo è molto più tinteo rispetto all'altro essendo un gloss adesso lo vedrete anche voi adesso provo ad applicare l'altro allora vedete che guardate sinceramente non ho mai visto un gloss cambiare così tonico e colore e ovviamente questi gli durano tantissimo infatti io sono sicura che risero un sacco quando andrò a scuola perché non seccano le labbra ma a parte che io adesso ce l'ho un po' secca di mio perché ieri sono stata tutto il giorno con l'aria condizionata in macchina e quindi ci sono scencate le labbra ma non scencano e durano tantissimo quindi per me che non ho voglia di fare i ritocchini sono perfetti sì non sono riuscita a coprire del tutto spero che si veda un po' il colore dopo allora vediamo adesso proviamo il rossetto è questo qui vediamo spero che funzioni lo stesso a me diverte molto di più applicare questo perché è stranissimo sembra una lella è strana vedete che è molto meno lucida purtroppo esce tanto il rasa del rossetto di prima ma questo è molto più rossiccio però sembra uguale applicato da solo è molto più rossiccio però avendo tinto nei labbra con l'altro esce di più rosa comunque tra i due a me piace molto di più rossetto come odore come stesura non lo so più divertente più carino ok allora per un cosplay che a dire la verità come ho già detto nella live non ho neanche iniziato però ho preso i dentini da vampiro ho preso questi dentini da vampiro che asci su qua ho bisogno di qualche consiglio io li attaccavo con una pasta quelle che ero prima che c'era direttamente dentro la confezione però in teoria si dovrà usare il polident voi l'avete già accusato io ho paura ad usarlo non lo so comunque è carino la confezioncina anche sono ovviamente molto più bianchi dei miei denti però vabbè è plastica quindi poi abbiamo questi due pacchetti di cia finte allora questo che sono molto belle come stile diciamo però alcune sono un pochino di fettosa una è un po' difettosa però insomma costavano veramente molto poco vedete questa però fa niente ecco la posso accorciare eventualmente ma le altre vedete che sono fatte piuttosto bene andiamo un po' ecco in più abbiamo la panda hanno la panda trasparente quindi anche se non mettete l'eyeliner insomma è molto molto comodo e sono belle volte io queste le utilizzo per il cosplay principalmente ne avevo altre simili ma sono leggermente diverse queste queste invece mi sono vinciote molto di più nonostante abbiano la panda nera perché è sottile comunque e come fattura sono fatte molto meglio mi piacciono di più indubbiamente e queste le utilizzo le ho già utilizzate una volta le sono riuscite a pulire bene e mi piacciono di più qualche le altre non le usate però insomma si vede già d'occhio nudo che hanno un piccolo difetto queste mi piacciono molto di più vabbè così comunque avete il link sotto io con ciglia finte le prendo sempre da questi tipi di siti quindi so più o meno cosa aspettarmi non ho mai comprato ciglia finte mi costassero più di 3 euro ok finiamo con l'ultimo prodotto che è il pezzo forte direi ovvero l'imbracatura di Attack on Titans non so se avete presente proprio il giro di cinture che hanno i personaggi di Attack on Titans per fare appunto il cosplay che ho quasi terminato devo dire che avevo paura cioè è una cosa che dovevo già comprare infatti ringrazio tantissimo il sito perché ovviamente ho risparmiato qualche soldino ma avevo paura che arrivassero con la versione semplificata perché se andate un po' online o comunque quando anche avevo intenzione di farmene da sola si trovavano sempre tutorial o comunque versioni semplificate tra l'altro una molto buona se volete provare a farlo in caso oppure avete comprato una imbracatura non fatta molto bene è un video di RoxyRoxTV che ho fatto un bel po' di tempo fa sul cosplay di Mikasa che vi straconsiglio ve lo lascio o nell'i o nell'info box insomma queste sono fatte bene sono molto fedele all'originale e come immaginavo molto complicate da mettere perché sono complete come dire non sono semplificate quindi anche l'indosso è molto semplice quando ho provato a metterle ho perso 20 minuti per capire come svintessero poi mezz'ora per metterle sulla prima volta poi dopo ovviamente è più semplice anche perché alcuni pezzi li puoi già lasciare montati in modo tale che indossare è molto più semplice che indossare in modo tale che il momento non so più parlare in modo tale che indossare l'armatura sia molto più semplice allora vi faccio vedere c'è la cintura anche il colore è perfetto e hanno anche cosa che mi è piaciuta tantissimo l'effetto un po' di usura delle di queste parti queste parti qua come si chiamano delle cinghie non delle cinghie vabbè questi che sembrano appunto usate ovviamente non sono usate però hanno praticamente si vede dal vivo avevano una base nera e hanno fatto dei pezzetti un po' più argentati in modo da far sembrare appunto un po' più realistico ecco questa è la cintura tantissimi buchi quindi va bene per tutte le misure secondo me cioè è comunque bella lunga io riesco a metterla senza dover fare buchi più quindi perfetta poi abbiamo la parte complicata che sono le gambe allora io l'ho già montata in parte sì c'è questa parte che va sulle cosce magari posso fare un video su come indossarla e questa invece che è tutta la parte dell'incrocio sulla gamba che è completa di solito è semplificata con una lineetta cioè con solo la parte della coscia invece qui ce l'abbiamo completa e questa è l'altra uguale ovviamente qui abbiamo questa che sono di solito quando vi arrivano sono benzi staccati io li ho già montati questa è la parte che va sulla schiena vedete che i colori sono fedeli insomma sono giusti e questa va sulla sulla parte inferiore della schiena in la zona lombare ecco questa qui ed infine andiamo questi qua che li ho smontati però sono fatti molto bene anche questi vanno inserite qua le cigchie comunque poi vi farò vedere magari mi è piaciuta molto all'inizio quando l'ho aperta odorava un po' di plastica l'ho lasciata un po' all'aria e il problema se n'è andato al massimo potete spruzzarci un po' pulirle leggermente con un po' di sapone però io semplicemente lasciandole all'aria non ho avuto altri problemi quindi questo era tutto con Banggood spero vi sia piaciuto spero di non avervi annoiato troppo secondo me ne sono uscite insomma delle cose interessanti e niente ci vediamo in un prossimo video ciao ciao